San Giorgio, sequestrati 75 cani. Comune e Asl intervengono in una struttura privata che poteva ospitare 15 animali, trovandone una novantina. Pesanti sanzioni in arrivo per il proprietario del ricovero, cani portati a Piacenza e Tortona. Provincia 180 mila euro di bonus ai dirigenti. Via libera alla retribuzione di risultato, si arriva fino a 15 mila euro extra oltre allo stipendio. Sicurezza, telecamera, Bobbio e Lugagnano. A ottobre verranno installati nei due comuni nuovi occhi elettronici, interventi previsti in tutta la provincia. Fiorenzuola e subito derby, domani esordio ufficiale per i rossoneri che sfidano il Fidenza nel primo turno di Coppa Italia. Intervista a Mr. Mantelli. E' scoppiata la foot golf mania, successo alle pianazze per il nuovo sport che unisce il calcio al golf. Tantissimi piacentini che hanno deciso di provarlo.